Buonasera a tutti, sono Shaul Bassi di BET Venezia e mi limito a dare solo delle piccole indicazioni tecniche, e cioè attualmente abbiamo silenziato tutti i vostri microfoni e vi chiediamo di tenere i microfoni chiusi per tutta la durata della conferenza. Al termine della conferenza, se volete intervenire, cosa che fa molto piacere a noi e al relatore, vi preghiamo di prenotare la vostra intervento sulla chat e poi vi daremo la parola per le domande. A questo punto lascio la parola a Giuseppe Balzano, il direttore di BET Venezia. Buonasera a tutti cari BET Veneziane e BET Veneziani, benvenuti nella nostra Casa della Cultura, casa virtuale questa sera, ma non meno reale per la presenza di tutti voi che in queste circostanze straordinarie si vuole una casa reale. Siamo penso più di 40 persone, 40 collegamenti per questa prima Zoom conference di BET Venezia e questo numero per una prima volta direi è un ottimo segnale. Allora, siamo riuniti in questo giorno per onorare, per commemorare la memoria di Napoleone Leo Jesurum, ideatore e fondatore del Centro Veneziano di Studi Ebraici Internazionali che conoscete ovviamente sotto l'appelazione di BET Venezia, Casa della Cultura Ebraica. Siamo, Shaul e io, siamo grati alla famiglia Jesurum, in particolare alla moglie Elena, figlio Stefano, il nipote Raquel, per la loro presenza e indefettibile sostegno in questa impresa incredibile che è il progetto BET Venezia. Nei vari programmi che abbiamo eseguiti in più di dieci anni, attraverso concerti, residenze di artisti, mostre, la nostra presenza in Israele, a Gerusalemme, per la Biennale dell'Arte o anche altri posti come la nostra artista Hadassah Goldri. Ma oggi volevo sottolineare il privilegio che abbiamo per ricordare la residenza Napoleone Jesurum, con i precedenti artisti che abbiamo invitati a Venezia come Moti Lerner e Laura Forti e l'anno scorso con l'autrice cilena Marjorie Agosina. Quest'anno dovevamo accogliere il musicista e il musicologo israeliano Shlomi Trishma per le ragioni che conosciamo, la cosa impossibile e ringraziamo questa sera il professore Francesco Spagnolo per la sua disponibilità e per organizzare questa grande premiaire di conferenza virtuale. Allora, siamo ancora in quarantena, ma siamo quasi uscendo e quasi inizia la fine della quarantena e domani per l'ebraismo si festeggerà il 33esimo giorno dell'Omer, periodo di 50 giorni che separa Pessah da Shavuot. Domani è il 33, è Lag Baomer e domani tradizionalmente si festeggia la personalità del Tanah Yohanan Bar Yochai di cui la sepoltura si trova nel piccolo villaggio di Meron in Galilea. Bar Yochai, dice il Talmud, trattato Shabbat, pagine 33b, ha passato 12 anni più un altro anno in una caverna con suo figlio. 13 anni in tutto è molto più tempo che due mesi per colpo del coronavirus. Bar Yochai ha studiato così tanto che si dice che ha scritto anche il libro dello Zohar durante questo tempo. Vi invito a rileggere quel brano del Talmud e a pensare cosa potremmo essere o fare dopo la fine completa della quarantena una volta che noi stessi saremmo usciti da questo periodo di quarantena. Ma questo è un altro episodio delle nostre avventure. Adesso passo volentieri la parola a Elena Giesulum per qualche parola su questo momento così importante per noi e poi Shaul Bassi presenterà il nostro relatore, Francesco Spagnolo. Grazie ancora per la vostra presenza, a presto e buona conferenza. Arrivederci. Elena, ci sei? Paolo e Giuseppe D'Alzano, il team di BED Venezia che anche questo anno il terzo consecutivo sono riuscito a organizzare, nonostante le circostanze inaspettate, questa conferenza in streaming in memoria di Leo. E colgo l'occasione per esprimere ancora una volta il mio affetto a te, carissimo Shaul, il molto apprezzato amico del nostro Leo. È con grande piacere che porgo il mio caloroso benvenuto a Francesco Spagnolo, docente di musicologia e studi ebraici dell'Università della California Berkeley. Prima di parlarvi di Leo, vorrei condividere con voi una riflessione. Io credo che tutti noi ricorderemo sempre questo anno 2020, uno degli anni più critici della storia del mondo moderno. Eppure, questo stesso anno ha segnato un altro momento storico molto importante. Nel gennaio del 2020 ricorreva infatti il 75esimo anniversario della liberazione di Auschwitz. Per questo memorial, il 23 gennaio scorso, a Yad Vashem, si sono incontrati i 40 leader mondiali per il quinto World Holocaust Forum. Mi sta molto, ma molto a cuore, citare qualche frase del discorso ufficiale del Presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, in occasione di questo incontro. Il Presidente ha cominciato il suo discorso in lingua ebraica, per poi continuare in inglese, per rispetto ai sopravvissuti presenti. Sì, sia lodato il Signore, che mi permette di essere qui oggi. Questo luogo ci ricorda la sofferenza di milioni di persone furono deputate dai tedeschi. Mi trovo di fronte al loro monumento, leggo i loro nomi, ascolto le loro storie e mi inchino con profondo dolore. Lo scambio di massa su scala industriale di 6 milioni ebrei, uomini e donne, il maggior crimine nella storia dell'umanità è stato compiuto dai miei concittadini. Continua e quasi alla fine dice Questa Germania di oggi sarà fedele a se stessa solo se sarà fedele alla sua responsabilità storica. Noi lottiamo contro l'antisemitismo. Noi ci opponiamo al veleno del nazionalismo. Noi proteggiamo la vita ebraica. Noi stiamo al fianco di Israele. Questa è la promessa che io rinnovo oggi a Yad Vashem davanti agli occhi del mondo. Avevo deciso di inserire il discorso del Presidente della Repubblica tedesca nel mio intervento di oggi quando ancora l'emergenza del Covid-19 era lontana dei pensieri di tutti noi. Rileggendole quando la possibilità di questa terza residenza si è fatta di nuovo concreta queste parole mi sono sembrate ancora più potenti ed attuali e sono davvero felice di condividerle con voi oggi. Proprio il 31 gennaio scorso la città di Venezia ha deciso di dedicare due delle pietre d'inciampo posate questo anno a Marisa e Iole Jesurum le cugine di Leo che non sono sopravvissute alla Shoah. Mi dispiace che Leo non abbia potuto assistere a questa cerimonia. Ricordo il senso di grande ingiustizia che sentiva quando ricordava la loro giovane morte. Ma ora dedico un amorevole ricordo a Leo. Nell'anno 2000 la legge 211 del governo italiano riconosce la data del 27 gennaio come giorno della memoria e Leo sente il dovere di raccontare la sua storia nelle scuole e diventare testimone della Shoah. Collabora con la nostra cara amica Marina Campos vicepresidente dell'associazione Fili della Shoah e per Leo sarà una nuova esperienza una spinta formidabile e una fonte di grande soddisfazione nella sua vita. Il destino vuole che una delle prime testimonianze venga chiesta proprio dalla scuola Dante Alghieri a Venezia la scuola elementare dove Leo fu cacciato via nell'anno 1938 una emozione indescrivibile quando Leo risponde al ringraziamento della sua scuola firma la sua lettera il vostro antichissimo compagno di scuola era un'espressione di gioia della sua rivincita o dei tanti tristi ricordi del passato e poi non meno emozionante è stato ricevere un altro invito questa volta dalla Svizzera era la richiesta di portare la sua testimonianza in una scuola di Ascona il prestigioso collegio Papio dove Leo con altri cinque ragazzi il 18 febbraio 1944 ebbe il privilegio di poter studiare insieme con gli studenti della buona società Svizzera e dove padre Filippo Gut dava a Leo lezioni private di pianoforte è stato per Leo una giornata di grande fatica la scuola aveva organizzato quattro incontri in una sola giornata ricordo ancora la palestra colma di studenti i loro volti silenziosi e attenti mentre ascoltavano i racconti di Leo pieno di emozioni e ricordi che alla fine della giornata dopo la gioia della condivisione lo avevano lasciato felice ma esausto naturalmente furono tutti molto gentili con noi ci offrivano una ottima cena e ci fecero dormire in due spattane stanzette separate ci vuole tanto tempo prima che Leo superasse le sue emozioni molto profonde potete immaginarvi quante lettere di ringraziamento degli alunni Leo abbia ricevuto tante qualcuna emozionante e qualcuna curiosa a questo punto vorrei ringraziare ufficialmente la nostra cara amica Marina Campos che nell'anno della scomparsa di Leo il 2017 ha dedicato a lui tutta la sua attività all'interno dell'associazione figli della Shoah grazie Marina vorrei anche nominare la nostra cara grandiosa amica Olga quante volte Olga e Leo sono andati nelle scuole a portare la loro testimonianza Olga oggi ha 95 anni ed è ancora molto attiva un forte abbraccio carissima Olga anche da parte di Leo e concludo questo breve speech rivolgendo ancora una volta il mio pensiero a te caro Leo e a tutte le cose belle che hai creato e di cui sono stata partecipe ho cercato un pensiero che sarebbe piaciuto anche a te da lasciare qui a voi oggi ed è questo scritto da Bertolt Brecht chi non conosce la verità è uno sciocco ma chi non conoscendola la chiamo bugia è un delinquente grazie di avermi ascoltato grazie Elena il nostro applauso e abbraccio comune per questo sentito importante messaggio grazie e a questo punto invitiamo il nostro oratore e ospite Francesco Spagnolo che è un musicologo un curatore della Magnus Collection of Jewish Art and Life a Berkeley dove insegna alla prestigiosa Università della California anche musicologia e studio ebraico Stef e Francesco Spagnolo a te la parola grazie grazie di questo invito un piacere sempre è sempre curioso parlare di ebrei italiani con ebrei italiani e la sensazione di vendere frigoriferi agli eschimesi non non mi manca mai e qui stiamo sperimentando nuovi territori di presentazione quindi volevo iniziare scusate se abbasso subito il tono di tutto ma volevo essere sicuro che tutti gli ospiti a casa che mi vedano sappiano che io ho in realtà dei pantaloni addosso che non sono in mutande perché vedo un sacco di videoconferenze in cui la gente si presenta bene in giacca e cravatta e poi chissà cosa succede sotto e non vorrei che nessuno pensasse una cosa del genere poi avendo messo questa cosa da parte vorrei anche ricordare che io tradizionalmente odio i vari slideshow powerpoint eccetera anche se ne ho uno qui sullo schermo e spero che tutti lo vedano nel senso che mi piace non essere lineare nelle mie presentazioni e in particolare questa presentazione sugli ebrei tedeschi proprio sul materiale che di lineare ha ben poco per cui cercherò in qualche modo di fornire degli spunti ma normalmente anche mi piacerebbe essere interrotto qui è difficile le interruzioni sono complicate magari ciao mi aiuti e comunque se poi raccogliamo commenti domande altre cose verso la fine almeno riusciamo a rimescolare le carte perché l'idea è proprio che le carte siano belle mescolate oltre a immagini e parole farò riferimento anche a delle fonti musicali la maggior parte sono prese da questo disco che ho avuto l'onore di curare per l'Università di Gerusalemme e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ormai quasi 20 anni fa ma che rimane comunque una delle fonti importanti per capire le vicende musicali degli ebrei in Italia e si chiama Tradizioni musicali degli ebrei italiani dalla raccolta le olevi la maggior parte degli esempi musicali che proporrò vengono da questo disco quindi possono essere recuperati in seguito in un modo di mantenere la conversazione viva al di là della conferenza di quest'oggi devo poi anche dire che mi fa particolarmente piacere parlare in memoria di Napoleone Jesurum perché questo libro Essere ebrei in Italia di Stefano Jesurum è venuto con me da Milano fino agli Stati Uniti anche questo quasi 20 anni fa e continua ad essere sulla mia libreria un libro importante appunto non lineare di idee di incroci e di idee è stato un libro importante nella genese degli interessi sugli studi ebraici italiani le melodie sinagogali identità culturale degli ebrei tedeschi tedeschi tra virgolette nel senso che non stiamo parlando degli ebrei di Germania stiamo parlando di un gruppo abbastanza complesso all'interno di quella che è la complessità generale degli ebrei italiani quando parlo di ebrei italiani mi fa sempre piacere in questa età di cose iperdigitali andare un po' sull'analogico e quella che vedete qui è una cartina dell'Italia ebraica dall'interno di copertina del libro sugli ebrei italiani che lo storico britannico Cecil Roth pubblicò nel 1948 e la vedete che uso il mio cursore spero lo vediate è tutta un po' sgangherata perché appunto è proprio l'interno di una copertina per cui ho dovuto appiattirlo all'epoca su una macchina fotocopiatrice e riprodurla così però la trovo importante perché quello di cui parliamo è una geografia italiana diversa alternativa non è una geografia necessariamente solo di regioni ma di network di connessioni particolari e una geografia basata sull'immigrazione in realtà questa è una cartina ancora più appropriata cioè l'idea di una confluenza di popolazioni ebraiche di varie origini europee mediterranee che giungono in Italia in vari momenti che si spostano all'interno dell'Italia e quindi creano network interni all'Italia nel corso dei secoli e dei millenni quando si parla di iber tedeschi in realtà si parla proprio di questa storia di immigrazione un'immigrazione che qui siamo a Venezia in basso a sinistra vedete scritto in ebraico Venezia della Stamperia Bragadina però questo è un classico prodotto di questo tipo di immigrazione abbiamo ebraico abbiamo spagnolo scritto in carattere ebraico abbiamo fonti iconografiche che vengono dal mondo Ashkenazita e ovviamente l'Italia l'italiano tutto all'interno dello stesso discorso e bisogna proprio abituarsi a pensare in questi termini anche quando ci concentriamo su identità sub-identità specifiche degli ebay in Italia in particolare in particolare e quindi particolarmente importante per me avere questa conversazione con voi molti di voi a Venezia e con Venezia il ghetto italiano in particolare il ghetto di Venezia è una specie di prototipo interessante per capire questi intrenci l'idea del ghetto italiano come un luogo di incontri qui non solo come un luogo di separazione oppure in cui gli ebrei sono sottoposti a uno scrutinio e sorveglianza culturale politica economica e religiosa ma anche proprio un luogo di incontri in particolare ne parliamo oggi sia di incontri culturali ebraici che hanno due paradigmi fondamentali uno è quello che si trova nella tefilà nelle preghiere di ogni mattina ma è l'aspirazione messianica con il mi riferisco al kibbutzka luiot la confluenza delle diaspore degli esili l'idea che gli ebrei di diversi origini e diverse vicissitudini storiche possano trovarsi tutti insieme è parte essenziale del ghetto italiano in cui diverse componenti diverse diverse culture ebraiche si trovavano compattate all'interno di uno spazio geografico urbano ben distinto c'è un'altra metafora che anche questa ebraica è quella del melting pot sappiamo che l'idea di melting pot viene da Israel Zangwell che l'applicava alla città di New York e però vorrei ricordare che melting pot cioè la pentola in cui tutto cuoce contemporaneamente non è una metafora culinaria è in realtà una metafora sonora alla fine del dramma è una pièce teatrale del melting pot siamo all'inizio del novecento alla fine della pièce teatrale i protagonisti e l'uscita di Shabbat guardano la skyline di New York City ma soprattutto l'ascoltano e sentono questa cacofonia di voci e rumori differenti che animano la città ecco questa metafora sonora in parte si applica proprio anche al discorso che sta facendo poi il ghetti italiano è anche un luogo di incontri interculturali interreligiosi cioè tra ebrei e non ebrei sappiamo che i ghetti lo sappiamo abbastanza bene riguardo a Venezia ma non ma non solo i ghetti erano luoghi visitati regolarmente da non ebrei di varie denominazioni e in particolare le sinagoge quando insegno di questo aspetto che mi interessa molto anche proprio per capire le sonorità delle sinagoge cioè questa costante e importante presenza non ebraica all'interno della sinagoga dei ghetti quindi dobbiamo pensare a non ebrei che riuscivano ad entrare nei ghetti nonostante la proibizione spesso di notte quando le cerimonie la maggioranza delle cerimonie in sinagoga aveva luogo e quindi entravano in sinagoga e in sinagoga trovavano quello che ai miei studenti qui a Berke descrivo come una specie di Jurassic Park liturgico religioso nel senso che entravano in un mondo altro che nella loro visione li portava in un'epoca storica e liturgica completamente diversa cioè quella della cultura ebraica tardo-antica dell'inizio del cristianesimo della sovrapposizione tra chiesa e sinagoga eccetera per cui le sinagoga sono luoghi interessanti non soltanto per quello che rappresentano ma per quello che continuamente accade al loro interno è come se ci fossero dei negoziati delle discussioni interculturali interreligiosi sia a livello ebraico che è ebraico cristiano e non solo che vengono tutte giocate in tempo reale sulla Bima intorno alla Bima intorno al podio di lettura della Bibbia di recitazione e canto delle preghiere ecco questo è copiato direttamente dalle fonti veneziane attuali dal Museo Ebraico di Venezia questa cartina vediamo come nel ghetto di Venezia abbiamo diverse sinagogue queste sono solo alcune le più importanti una di queste la prima che viene da quanto sappiamo stabilita nel ghetto è proprio la sinagoga tedesca che però ha vicino un'altra sinagoga che segue il rito Ashkenazita che si chiama invece Canton per motivi dovuti non a chi la popola ma alla sua collocazione all'interno del campo del ghetto e poi altre sinagoga italiane le lentine spagnole che rappresentano queste diverse origini ma forse anche qualcosa di più e questo prototipo è importante per capire non solo le musiche del ghetto veneziano ma le musiche delle sinagoga in Italia in età moderna quando questa questa melting pot questa riunione di diaspora si manifesta sul territorio italiano vediamo che dà luogo una serie di tradizioni musicali cioè musiche usate in contemporanea con il testo delle preghiere la lettura della vita ebraica durante il rito sinagogale a tradizioni musicali molto diverse e che si possono più o meno suddividere in questi quattro gruppi che ho qui elencati cioè il termine tecnico in contesto ebraico è minhag cioè condotta comportamento ma anche costume costume proprio nel senso di costume etnografico sono aspetti che caratterizzano ogni luogo in modo specifico fra i minodemi locali i costumi locali cioè sviluppati all'interno della penisola abbiamo sia l'import originario con chiara influenza dell'antico rito palestinese l'incontro tra questo e invece il rito babilonese di via sefardita con i veneromi e poi anche di cui sappiamo veramente pochissimo il rito siciliano dal punto di vista musicale pochissimo ci sono poi dei riti mediterranei che fanno parte della compagina italiana e in particolare il cosiddetto romaniota che sarebbe quello degli ebrei di bisanzio e della grecia delle zone balcaniche l'arrivo dalla parte opposta della penisola della penisola del rito provenziale e poi un impatto importante ne parleremo un pochino dopo della cabalà soprattutto con la fondazione della scuola italiana a Venezia che in realtà è un rito sincretico che porta ebrei di vario genere ma insomma un'altra storia forse un primo esempio di riforma liturgica nella storia ebraica europea due riti sefarditi uno che arriva dall'Iberia quindi spagnolo e portoghese e un altro di origine mediterraneo orientale Turchia Medio Oriente e poi un altro rito che io chiamo da esportazione che è una serie di tradizioni musicali e di composizioni musicali create concepite a Livorno soprattutto a partire dal XVIII secolo che poi acquistano valore presso altre comunità sia italiane che del Mediterraneo che di più anche fino alle Americhe per cui melodie create nel XVIII e XIX secolo a Livorno vengono esportate in giro per il mondo e diventano una sorta di rito suo particolare infine ed è qui che ci concentriamo quest'oggi i riti Ashkenaziti cioè dell'Ashkenaz meridionale quindi meridionale non nel senso dell'Italia meridionale ma dell'Ashkenaz quindi della zona centro-sudeuropea Germania e Austria con ebrei che attraversano le Alpi e si insidiano nel nord Italia e poi orientale cioè un rito francese che viene chiamato dagli studiosi Apam è una nomenclatura curiosa che viene dall'ebraico le iniziali ebraiche cioè Alef Te Mem delle città eventualmente piemontesi di Asti Fussano non calvo dove ebrei espulsi dalla Francia alla fine del 14 secolo si insidiarono mantenendo riti particolari soprattutto per i giorni di Rosh Hashanah del Capodanno e di Yom Kippur quindi un panorama di riti molto diversi quando Leo Levi registrò questa è una fonte che potete usare per recuperare queste cose quando registrò identità rituali cioè Minagin attraverso l'Italia alla metà degli anni 50 registrò 27 tradizioni locali differenti e queste erano molto meno rispetto a quelle in esistenza fino alla metà del metà fine XIX secolo per cui si tratta veramente di una serie di micro culture micro musiche italiane che come vedremo sono sempre in dialogo sia tra loro e tra musiche sinagogali ebraiche un po' di tutta la diaspora che con la musica italiana o le musiche italiane ci sono oltre le identità rituali da considerare anche le identità territoriali degli ebrei cioè il termine italiano di campanilismo si applica molto bene anche alle tradizioni liturgiche degli ebrei italiani ci sono identità musicali iperlocali ci sono dimensioni musicali a livello regionale quindi le varie regioni e macro regioni italiane ci sono soprattutto sulla base dei network ebraici italiani dei repertori musicali transregionali oppure nazionali e anche come dicevo poco fa alcuni repertori cosmopolitici che se hanno origine in Italia o arrivano in Italia hanno poi un network loro che va veramente in giro per il globe quindi quello di cui io parlo quest'oggi in realtà risulta dalla sovrapposizione di queste identità rituali e territoriali quindi in realtà si tratta di una cosa una cosa di questo genere che dovremmo tenere in mente e questa griglia è quella sulla quale si basano le mie riflessioni e come cerco di capire le musiche cioè quello che oralmente viene cantato nelle sinagoge d'Italia altri elementi da capire tra poco inizio a fare il DJ e quindi a farvi ascoltare anche un po' di esempi musicali è che troviamo nell'ambito italiano una sorta di coinerituale cioè il fatto che tutti questi riti esistono e sono distinti ma anche coesistono e si influenzano gli uni con gli altri e soprattutto quella che emerge è una sorta di polidentità qui mi riferisco al concetto di polidentità di Edgar Morin molto bello che lui ha espresso il filosofo francese di origine sefardita di Salonico soprattutto nella biografia immaginata biografia di suo padre Vidal Montpère in cui parla di questo concetto di polidentità in realtà abbiamo attraverso la musica possiamo vedere delle identità culturali complesse che non sono mai una sola cosa ma sono sempre multiple alcuni esempi in alcuni luoghi come abbiamo visto nella piccola mappa del ghetto veneziano troviamo una densità rituale all'interno di un solo ghetto a Venezia ma Antova Torino dove sinagoghe e riti di diverse origini all'interno della diaspora globale ebraica si incontrano e come sappiamo il suono passa soprattutto di primavera estate quando le finestre sono aperte da un luogo all'altro per cui c'è comunicazione anche all'interno nello stesso ghetto in alcuni casi come per esempio Ferrara ma anche più tardi Ancona o Roma prima della distruzione del ghetto e la costruzione nel 1904 del Tempio Maggiore in un solo edificio se leggiamo il giardino dei Finzi Contini e descrizione della sinagoga abbiamo una descrizione abbastanza viva proprio di come all'interno dello stesso edificio sui diversi piani sinagoga quindi riti quindi musiche italiane se parlite a schiena zite coesistono all'interno dello stesso stabile è una situazione che troveremo simile solo oltre all'Italia solo con la Fondazione del Stato di Israele e la confluenza del Diaspore Israele dove veramente all'interno di uno stesso edificio possiamo trovare musiche dal mondo ebraico molto molto diverse e poi c'è anche un fenomeno abbastanza interessante quel che io chiamo di transidentità transidentità rituale cioè il fatto che si possono avere intere comunità questo è il caso di Vercelli nel XVIII secolo che trasformano il proprio rito da un minhag da un certo canone di melodie testi eccetera a un altro a Vercelli la comunità che seguiva il rito italiano nel Settecento pare su influenza di un maggiorente del ghetto di origine Ashkenazita praticamente si trasformò in una sorta di transidentità rituale di transfer di identità rituale da italiana Ashkenazita oppure possiamo avere dei secretismi per esempio Italo-Sefarditi questo è il caso di Firenze sarebbe tutto un altro discorso ma in cui i diritti vengono accorpati in modo interessante da partire dalla metà dagli anni 40 dell'Ottocento Ancona nel Novecento a volte anche per motivi demografici in cui le comunità si rimpiccioliscono e devono collaborare e sovrapporsi e oppure e ne parleremo più avanti in termini di coesistenza cioè comunità e questo è il caso delle comunità APAM piemontese Asti, Fossano, Moncalvo che in alcuni giorni dell'anno in alcune ricorrenze del calendario liturgico ebraico sono Ashkenazite e in altre sono o Ashkenaziti o italiani dipendentemente dalla situazione e dalle vicende locali in più abbiamo il frutto di emigrazione emancipazione e quindi anche l'inurbamento da piccole comunità a comunità più grandi che porta a un rimescolamento delle carte e infine quello che chiamerei multilinguismo locale che si basa soprattutto in parte sul fatto che ovviamente in Italia molte famiglie italiane si sposano al di là di questi confini liturgici per cui Ashkenaziti italiani creano famiglie sincretiche in cui tutte queste melodie vengono rimescolate queste culture musicali vengono rimescolate ma poi soprattutto c'è all'interno della signora stessa una sorta di dialogo di dinamica tramite i ruoli simbolici che ogni sinagoga ha cioè il rabbino o chi riveste autorità rabbinica nella mancanza di un rabbino o in altre situazioni e giusto per darvi un esempio mentre in quasi tutto il mondo ebraico la preghiera di colnidre o nella tradizione ebraica italiana colnidre è un brano musicale del cantore è un classico delle registrazioni dei cantori est-europei una pièce di resistenza in ambito italiano è molto spesso un brano rabbinico quindi se un rabbino di un'altra comunità viene quindi con un altro minhag musicale viene assunto da una nuova comunità spesso il colnidre e altre melodie collegate importanti di esecuzione rabbinica verranno importate in quella comunità lo stesso accade con i cantori soprattutto partire dall'emancipazione ma anche prima i cantori si spostano l'uno all'altro portando le loro musiche le loro competenze musicali da una città all'altra da un ghetto all'altro da una comunità all'altra e poi c'è questo ruolo molto interessante all'interno delle dinamiche sinagogali del quasi casani ovvero coloro che frequentano le sinagogie sanno bene a che cosa mi riferisco cioè quei quasi cantori quei personaggi di solito di una certa età e con una certa imponenza vocale che dirigono in tempo reale la tradizione orale spostando l'esecuzione melodicamente ritmicamente eccetera su binari diversi da quelli del cantore ufficiale di una sinagoga quando provo a descrivere queste cose uso spesso mi piace farlo mi piace provare a trasferire le cose grafiche uso spesso degli esempi questo è fatto con un software di mind mapping questo mappamento di mappatura di idee e ho provato a mettere giù per i miei studenti questa cosa ma quando poi comincio a descrivere tutte queste interrelazioni tra una e l'altra mi trovo in situazioni in cui le mappature non servono più a niente perché in realtà le confluenze di idee di notizie sono talmente tanti e talmente collegate l'una con l'altra che creare una mappa bidimensionale non funziona allora l'altro modo di fare queste cose qui è ricostruire le storie sinagogali di ogni sinagoga per esempio questa è un foglio di Excel in cui si ricostruisce la storia sinagogale nel corso di un paio di secoli della comunità di Mantua dove vediamo non solo diverse sinagoghe che operano in diversi momenti per diversi motivi anche socio-economici e quindi coesistono spesso queste sinagoga e queste musiche allo stesso tempo nello stesso ambito geografico l'altro modo di farlo e questo è un altro esempio sempre usando Excel è ricostruire proprio la storia più macro italiana a partire dall'Unità d'Italia un rabbino giornalista personaggio fondamentale nell'ottocento e primo novecento ebraico famiglio servi inizia a raccogliere notizie facendosi mandare corrispondenze da ogni comunità chiedendo quante sinagoge ci sono nella vostra comunità quanti quante di queste sinagoge seguono quale rito come sono frequentate qual è il rito dominante qual è il meno dominante qui vedete anno per anno i suoi resoconti questo è quello del 1868 di certo a caso per ogni comunità è possibile capire quali seguono rita italiano tedesco sefardita e così via questo è praticamente la base di quello che voglio presentarvi adesso vi faccio ascoltare un po' di musica il modo per descrivere repertori musicali sinagogali è suddividerli in una sorta di griglia repertorio di base per repertorio di base o in inglese core queste sono nomenclature basate dall'antropologia ad antropologia culturale repertorio di base sarebbe un repertorio che caratterizza una specifica comunità una specifica sinagoga con elementi che non sono condivisi in nessun altro luogo invece i repertori condivisi possono essere sia condivisi da un punto di vista locale o regionale o anche attraverso l'intera penisola italiana repertori co-territoriali sono repertori musicali condivisi tra ebrei e non ebrei in certi luoghi cioè musiche spesso non ebraiche che entrano di buon diritto a far parte del rito sinagogale e vengono usate per cantare testi liturgici di vario genere come vedremo presenterò un esempio di una versione di Haggadi il canto il canto della Pasqua ebraica del sedere della Pasqua ebraica che è un esempio classico di territorialità musico-culturale tra i repertori di base ecco e spero che tutti riescano a sentire da casa questo quello che vi presento adesso è un esempio classico di come il canto sinagogale è stato sviluppato nella comunità di Gorizia questa è una registrazione di Leo Levi degli anni 50 l'informante era Giacomo Farber che ho avuto modo poi di registrare a Milano alla fine degli anni 90 e cantava ancora con perfetta memoria quindi direi ho potuto verificare l'accuratezza di queste memorie musicali ma vorrei farvelo sentire proprio perché entra nel tono di quello che è il tono di recitazione delle preghiere in una sinagoga quella di Gorizia che segue il rito degli ebrei cosiddetti tedeschi aspettate vediamo se riesco a farla partire non 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 Il Signore del Signore E questo è un esempio e quando queste musiche vengono ascoltate con esperti di musica sinagogale di area germanica, tedesca, austriaca, le affinità sono molto chiare. Altri esempi di questo genere vengono da Trieste. Sentiamo un tipo di giusto. Questo è un tipo di giusto da testa. Ecco, queste sono melodie che danno il tono a una dimensione aschenazita tutta italiana che non è condivisa con altri riti all'interno della penigola. Sei, alenu, solenne professione di fede sull'unità di Dio. E per finire, di questi esempi iperlocali, ve ne faccio ascoltare uno solo di questi due. È una versione di Shalom Aleichem da Casale Monferrato cantata dai bimbi che erano diventati bene i mitzvah. Il canto Shalom Aleichem introduce la cena sabbatica venerdì sera a casa quindi viene intonato dal bimbo che è diventato ritualmente adulto. Ecco qui l'esempio. Terze serie numero 14. Shalom Aleichem e Esed Chaim per la maggiorità religiosa. Ecco, questi sono esempi di repertorio di base. I repertori condivisi sono quelli che si trovano sia tra i gruppi ashkenaziti che altri. Melodie per il matrimonio, per esempio, come il Chichinor di Casale Monferrato, o anche questo viene da Casale Monferrato, questa è una melodia in realtà, e avete qui la composizione di Michele Bolacchi a Livorno, una melodia che poi si è sparsa per tutta l'Italia, una melodia che nasce in ambito sefardita a Livorno, ma viene usata da varie comunità in Italia e ne sentiamo una variante, come dire, tedeschizzata. Mizzamore a Davide Avvola adonai bennellim Avvola adonai kvod vangod Avvola adonai kvod eshemo Yistachavola adonai b'adrat kodesh Avvola adonai kvod eshemo Adonai 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 Stessa narrativa sia letteraria che musicale della storia, quindi il capretto che viene Ucciso in questo caso da un gatto, da un lupo e poi un morsicato dal cane, eccetera, eccetera, tutta la storia Sulla base proprio di una, di musiche locali, regionali, non ebraiche. Ecco, per esempio, questa è la versione di Moncalvo E se troviamo registrazione, questa è una registrazione dell'archivio musico di Giavi, il Taccademia di Santa Sicilia In ambito non ebraico, sentiamo che si tratta dello stesso tipo di repertorio poetico e musicale Vediamo se riesco a farla partire, no? Ecco, forse è In questo caso abbiamo una musica popolare non ebraica che entra nell'ambito domestico di una famiglia schienazita in Piemonte Un aspetto fondamentale che abbiamo nel capire queste musiche, e concludo con alcuni esempi basati su questo È il fatto che all'inizio del Settecento il compositore veneziano Benedetto Marcello entrò o lui direttamente nel ghetto Ricordate quello che vi rammentavo prima, l'ingresso di Non ebrai nel ghetto per andare a studiare, a capire, a ascoltare Essere esposti ai riti sinagogali, oppure attraverso un emissario e intervistò due rabbini Possiamo capire chi fosse quello sefardita, non quello schienazita all'interno del ghetto Ma Benedetto Marcello poi trascrisse o ebbe trascritte le melodie ascoltate nel ghetto e poi le usò come base per nuove composizioni fatte da lui appunto Le musiche che lui riporta sono le musiche che lui chiama degli ebrei tedeschi Nella scuola tedesca a Venezia E a destra avete la trascrizione di Marcello Per riuscire a conciliare il testo ebraico con la notazione musicale scrive le note da destra a sinistra Quindi qui per capire queste musiche bisogna poter sia leggere la musica da destra a sinistra che ovviamente leggerla ebraico E così si riesce a seguire la partitura La cosa interessante delle melodie trascritte da Benedetto Marcello nel Settecento E' che ritroviamo ancora nelle tradizioni orali degli ebrei ashkenaziti in Italia 200-250 anni dopo per esempio nelle registrazioni di Leo Levi Leone Leoni veniva da Verone, era rabbino a Ferrara E registrò per Leo Levi questa versione del Ham Avdil per l'Abdallah Per la fine dello Shabbat Su una melodia che replica in modo abbastanza fedele Quello che Benedetto Marcello Chi per lui aveva ascoltato nel Ghetto di Venezia 200 e più anni prima Ecco qui un esempio Chi per lui aveva ascoltato nel Ghetto di Venezia Scusate, vabbè, così avete sentito E questo è il problema dei PowerPoint L'ho bloccata un po' prima Ma volevo farvi ascoltare un'altra cosa Un'altra melodia trascritta da Benedetto Marcello Per Shofet Kolaaretz Come vedete, intonazione degli ebrei tedeschi Qui una fonte venerabile, tradizione familiare nella famiglia Heller Nella sinagoga Canton, nella scuola Canton a Venezia Dalla fine dell'Ottocento e prime del Novecento Guido Heller Che ripropone essenzialmente una melodia molto simile A quella notata da Benedetto Marcello Interessante notare che ritroviamo questa melodia cantata a Torino In una sinagoga di rito italiano Ma da un cantore, Giacomo De Benedetti Viene registrato negli anni Trenta Prima che Leo Levi registrasse di suo E forse è stato l'ultimo grande cantore ashkenazita d'Italia Giacomo De Benedetti Per intenderci il cantore che era cantore nella sinagoga di Torino Quando Primo Levi e coloro della sua età ebbero Bar Mitzvah E sentiamo la sua voce che è interessante La sua voce che è stata l'ultima Ecco vorrei chiudere con un ultimo esempio Ovviamente tra le registrazioni c'è anche quella di Mao Tsur Che è una versione di Mao Tsur Che non è quella standard ashkenazita Ma probabilmente da quello che riusciamo a capire Una versione precedente Che anche troviamo e vediamo come gira attraverso l'Italia Per cui la melodia viene applicata per esempio a Torino Anche ad altri testi per Hanukkah Ma vorrei chiudere con la trascrizione di Veneto Marcello Del Salmo 114 per l'Allel Un Allel che viene recitato molto probabilmente in questo caso Proprio durante Hanukkah con questa melodia Sentiamo alcune versioni di questa melodia Qui troviamo una comparazione fatta da me Delle varie versioni registrate manoscritte Dai vari archivi sia sonori che liturgici di comunità ebraiche italiane E vediamo come questa melodia si muove tra Venezia e Gorizia E arriva sia a Vercelli che a Torino Quindi è una melodia, come dire, è una competenza musicale Che attraversa, che possiamo tracciare su una mappa ashkenazita italiana Sentiamola nella versione di Gorizia Qui è Leo Levi che la canta lui stesso no 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 met principles che's in Italia apohi a che avevano per comeeli seg village la mangiunga del Pesach era la mangiunga del Pesach. La mangiunga del Pesach era la mangiunga del Pesach. La mangiunga del Pesach era la mangiunga del Pesach era la mangiunga del Pesach. Abbiamo anche la stessa melodia a Torino con accompagnamento di organo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come queste cose vengono registrate poi in maniera moderna vi faccio sentire una versione in cui la parte ebraica è stata completamente reinventata con una pronuncia ashkenazita dell'est dell'ebraico. Ma poi la parte musicale cioè come Benedetto Marcello ha elaborato questa melodia nella sua composizione diventa interessante e questo sarà il mio ultimo esempio. sentiamo come canta questa cantante la parte ebraica. e questo è il mio ultimo esempio. Mi devo fermare indietro. No. Non ce la faccio. Ok. Eccomi qua scusate. Come sentite qui la versione sinagogale è stata completamente reinventata per una registrazione. moderna. Ma poi sentiamo cosa succede quando la parte strumentale di Benedetto Marcello sulla stessa melodia viene eseguita. Eccoci qua. Secondo. Qui si parla. Ma那'è chi ha detto. Ma se è un'altra? E questa è una cosa. Lei è il mio fruotino. Il mio fruotino, è la prima cosa. E questo è il mio fruotino. E questo è tutto questo. E lo arrive. Somma è vera, il cammino prevede, e l'ingiustizia progetto l'altissimo, e il conforto al povero inocente. E l'ingiustizia progetto l'altissimo, e il conforto al povero inocente. E l'ingiustizia di rivolgere degli assi sopra le lecuità dal povero inocente. E l'ingiustizia di rivolgere degli assi sopra le lecuità dal povero inocente. Se noi ascoltiamo la versione strumentale musicale fatta da Netto Carcello su questa melodia, possiamo in realtà capire come il compositore l'avesse ascoltata a suo tempo. Le versioni orali che abbiamo sono ritmicamente molto dilatate. Quando arriva la parte musicale vediamo che possiamo avere un ritmo diverso, ed è un ritmo, è una dimensione musicale che ci porta direttamente non alle tradizioni degli ebrei Ashkenaziti, ma alle musiche co-territoriali degli ebrei tedeschi, in particolare di quegli ebrei tedeschi che non hanno affatto Ashkenaziti, come sappiamo a Venezia. Molti di loro erano ebrei italiani, ma erano residenti nella città di Venezia prima del ghetto e avevano un ruolo importante. quindi era una parte importante della componente della componente culturale della scuola tedesca del ghetto. L'unico parallelo comprensibile a questa musica sono le musiche natalizie, per esempio, degli zampognari italiani. Ne faccio un esempio qui per capire a che cosa ci riferiamo. Cioè, musiche di cannotà con riferimenti natalisti popolari del centro-nord Italia. Allora, detto questo, vorrei solo dare un ultimo messaggio. Non vi faccio ascoltare questo, vi manderò un link per YouTube, ma il rabbino Elia Richetti, che è stato anche rabbino a Venezia, è forse l'ultima persona in Italia che ha una competenza su una varietà di riti tedeschi. L'Italia l'avevo invitato a New York tre anni fa con il Centro Primo Levi di New York. Tenne un paio di concerti, ma soprattutto lo registrai per diverse ore, cercando di documentare il massimo, già ristrando in video. Purtroppo il video è ancora al Centro Primo Levi di New York, quindi magari alla fine di questa, adesso torno a essere io, me stesso in video e non il mio schermo di computer, forse alla fine di questa conferenza inizieremo una petizione tipo change.org per chiedere che il Centro Primo Levi di Venezia ci dia le registrazioni video del rabbino Elia Richetti che canta una serie di riti italaschianaziti, di cui appunto lui è l'ultimo conoscitore. E' così un po' concluso il mio escurso su questo tema abbastanza esoterico, ma spero caro a molti di voi. Grazie Francesco Spagnolo e, come dire, lo applaudiamo tutti. Ecco, adesso, nonostante l'ora qui in Italia volga a quella di cena, abbiamo sicuramente tempo per qualche intervento e vorrei dare la parola a Stefano Jesrum che mi deve dare solo il tempo di accendere il suo microfono. Un attimo. Eccolo qua. Stefano, prego. Eccomi. Eccomi. Allora, intanto ciao a tutti. Un grazie enorme a Beid Venezia, a Shaul e agli amici e un gigantesco ringraziamento a Francesco, perché non solo la lezione è stata bellissima, ma ha, come dire, almeno per me, ha con dei tratti di commozione anche. Io poi volevo dire solo due cose che dirò rapidissimamente. Aggiungo solo che nell'excursus che abbiamo sentito mi ha fatto venire in mente una cosa che penso da anni, ma insomma, come sia un grande peccato, per non usare una parola peggiore, l'abolizione dell'organo dalle funzioni sinagogali, la pressochetto, tutta l'abolizione, che è palesemente un soggiacere a un ebraismo, come dire, che non è il mio, che non trovo... Insomma, che è molto egoriferito e molto chiuso, perché voi mi darete atto che tra le cose che ci ha fatto sentire Francesco e le stesse cose cantate, in genere molto male anche, ma questo è un altro discorso, senza l'organo, come dire, è tutta un'altra storia. Chiusa questa piccola polemicuccia del tutto sciocca. No, io volevo dire questo, che mi ha fatto un immenso piacere, non solo il solito ricordo del papà, ma che sia stato fatto sulla musica e sulla musica liturgica, perché il papà aveva una passione, una mania per la khask, khasanut, che non ha, per la verità, mai ottemperato, ma l'ha sempre avuta nel cuore. Cioè, siccome lui cantava da ragazzo alla sinagoga spagnola di Venezia con il rabbino Ottolenghi, la sua ricordazione di benedizione, e poi il seder, io ho un CD registrato di mio padre, il seder era tutto cantato con quello che lui chiamava il rito veneziano, che non è esattamente il rito veneziano da quello che ho capito, ma, insomma, è comunque quella roba lì. Ecco, mi ha fatto un immenso piacere e volevo, e poi non vi porto di altro tempo, leggere. E intanto un'enorme grazia, anche se non c'è, anche a Rav Richetti, innanzitutto, perché è stato il rabbino di mia figlia alle scuole elementari e medie. E poi perché è un amico, insomma, è una persona molto vicina, e un ringraziamento anche a Rav Della Rocca per tante cose. Io ho fatto con lui il festival Jewish and the City anni fa, ma per una cosa che mi ha scritto quando è morto il papà, ed è, ve la leggo, così almeno sono sicuro di non dire delle sciocchezze. Alla fine degli anni 90, no, 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 una mattina eravamo nel mio ufficio e mi confessò che il suo più grande sogno era quello di recitare il Musaf di Shabbat dalla tevà della scuola spagnola, come faceva spesso durante la sua adolescenza. Gli spiegai che per tornare ad essere Hazan avrebbe dovuto adeguare la propria vita ad una maggior osservanza delle Mitzvot, comprese con grande rispetto questa mia posizione, mi chiese timidamente, ma con grande sensibilità, la possibilità di andare solo io e lui nella scuola spagnola per cantare dalla tevà il Musaf che cantava con Rav Ottolenghi quando era ragazzo. lo recitò quasi tutto a memoria con grande concentrazione e con una voce calda e melodiosa pur consapevole che non era un momento di liturgia. Erano passati più di 50 anni dall'ultima volta che lo aveva recitato in quello stesso luogo eppure ricordava tutto, le parole e l'intonazione. Per questo la lezione di Francesco è un tributo, un regalo enorme che ha fatto a mio padre e a tutta la nostra famiglia. Grazie mille. Grazie. Grazie a Stefano per questo bellissimo ricordo. Chiedo se qualcuno, vedo tanto molti saluti e ringraziamenti nella chat. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualche osservazione? Ci fa molto piacere il fatto che abbiamo dei partecipanti da varie parti del mondo e quindi siamo molto grati per il fatto che vorremmo tutti essere di persona però ci prendiamo anche i benefici di questa condizione da cui speriamo di uscire il prima possibile proprio perché ci consente di essere insieme anche a grande distanza tra due continenti e più paesi. posso dire che non solo perché siamo via Zoom ma comunque non mordo di solito per cui se qualcuno vuole fare qualche domanda non c'è alcun problema. No, tu non mordi ma forse sono loro che la maggior parte dei partecipanti vuole mordere qualcos'altro da mangiare capisco che è ora di cena io posso solo dire che vi ringrazio per avermi riportato su questo percorso che è affascinante e devo dire abbastanza difficile per cui ho cercato di dare dei punti su riferimento generale ma non è semplice le volte in cui mi sono trovato a parlarne anche con colleghi la complessità dell'ebraismo italiano è ancora difficile da capire da parte di molti contemporaneamente devo dire che è una complessità essenziale per capire le diaspore non soltanto la diaspore ebraica per cui riuscire a risolvere alcuni di questi nodi va molto al di là del nostro dell'interesse dei visi che vedo adesso vedo qui sul mio schermo va molto al di là per cui teniamo duro perché va la pena di mandare avanti c'è una domanda grazie c'è una domanda da Rachele di Esrum buonasera innanzitutto grazie mille veramente molto molto interessante io avrei una domanda perché per il dottorato mi sto occupando di un innario proprio delle confraternite all'interno dei ghetti italiani durante il Seicento e volevo capire se nei suoi studi ha riscontrato che col passaggio ha l'influenza della cabala a cui accennava nelle prime slide e il passaggio conseguente delle confraternite a un indirizzo maggiormente devozionale se questa cosa si riscontra anche a livello musicale perché nella poesia c'è proprio compare la cabala a livello poesico quindi volevo capire musicalmente direi e anche qui Venezia Mantova sono luoghi fondamentali per capire queste cose però da un punto di vista specificamente musico liturgico quindi rispondo da quella prospettiva quello che la cabala fa e quindi possiamo però pensare che effetto questo ha da un punto di vista sociale la cabala si offre come un territorio inter o trans culturale da un punto di vista musico liturgico cioè in cui ebrei di varie denominazioni si possono incontrare ritualmente da questo punto di vista e l'idea peraltro mi viene da Roberto Bonfi non è mia ma l'impatto della cabala l'urianica stiamo parlando della cabala l'urianica che arriva da Saped a Venezia proprio a Venezia sappiamo le date 1570 abbiamo è un quadro abbastanza completo che abbiamo dà la possibilità a ebrei che erano compartimentalizzati nelle loro sinagove di confluire e quindi di portare elementi musicali diversi peraltro sempre spesso con elementi coterritoriali per cui melodie non ebraiche vengono spesso aggiunte ai testi liturgici c'è una composizione del 600 probabilmente mantovana commissionata a un compositore non ebreo questo è ancora un altro capitolo di tutta questa storia specificamente per la nuova reinventata occorrenza liturgica di Oshana Rabba è una cantata per una confraternita di Chombrin Laboker di custodi dell'alba probabilmente tu stai studiando do del tu perché spero che poi restituisca il favore per darmi lei e questa cantata se noi leggiamo il test è praticamente una sorta di spiegazione una specie di non è un fumetto perché è sonora però è un sound novel non un graphic novel in cui si spiega com'è possibile che questi personaggi in mezzo alla notte in mezzo al ghetto cantino inni eccetera e quindi abbiamo delle fonti interessanti e anche delle fonti musicali interessanti abbiamo le musiche per la inaugurazione della signora di Siena alla fine del settecento sappiamo molto di quell'evento che durò per almeno una settimana con rabbini e altri funzionari anche non ebrei che arrivavano da varie parti della Toscana e d'Italia quindi un evento internazionale dell'epoca quella sinagoga era praticamente la confluenza di prese preesistenti sinagoghe italiane e sefardite l'intera cerimonia venne giocata su testi cabalistici e quindi diventavano una specie di terreno comune per assorbire riti e culture differenti quindi da questo punto di vista credo sì l'impatto della cabalà sulla liturgia italiana è un impatto di sincretismo un tipo di sincretismo che verrà poi rivisitato nel novecento quando ci sarà il tentativo di unificare riti diversi per creare una sorta di sonorità unica condivisa dagli ebrei tentativo fallitissimo ovviamente per tutti i motivi migliori del mondo però di creare una sonorità unica di tutto l'ebraismo italiano quindi anche qui possiamo poi pensare ai paralleli politici e sociali di questi tentativi di questo scelto grazie mille ma volevo ringraziare veramente Francesco Spagnolo per questa conferenza veramente interessantissima e da sottolineare questa nozione molto importante la complessità e in particolare la complessità della storia musicale enturgica dell'ebraismo italiano veramente un momento forte che abbiamo vissuto qua a livello intellettuale sono veramente entusiasta di questa conferenza sarà anche interessante non so se è possibile ma di magari approfondire un po' questo argomento e Francesco se hai una bibliografia anche da comunicarci oltre al libro che ci hai fatto vedere ovviamente penso che interessa ce n'è una online sul sito del CEDEC che avevo fatto diversi anni fa proprio questo sarebbe probabilmente da aggiornare ma intanto magari se hai un link o qualcosa così lo mettiamo sulla pagina facebook di BetVeneza e così i nostri amici potranno anche riferirsi a questo elemento veramente molto grazie stiamo registrando questa cosa per cui avremo anche un video di tutto che mi farà piacere veramente fantastico veramente sono molto grato di questo della tua presenza della tua intervento veramente un grande momento grazie bene allora niente aggiungiamo solo un ringraziamento affettuoso a Elena Jesrum a Stefano Jesrum e Rachele Jesrum che ci permettono di appunto ricordare insieme il nostro amatissimo Leo e allora buona serata agli italiani buona mattinata ai californiani buon tutto a tutte le persone che si seguono da altre parti grazie e alla prossima